Torna la paura per la sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. 700.000 abruzzesi interessati e soprattutto spaventati dalla notizia dell'arrivo di un carico di materiale radioattivo proveniente dalla Francia e diretto ai laboratori di fisica nucleare. Il trasporto autorizzato dalla prefettura dell'Aquila, una simulazione in bianco, hanno precisato, di un contenitore decontaminato ma che preclude il futuro utilizzo di sostanze pericolose in luoghi troppo vicini alle captazioni idriche e non ancora perfettamente impermeabilizzati. Si mobilitano così le associazioni ambientaliste e scatta un esposto alla procura per rischio radioattivo. Ci sarà una simulazione di un trasporto di materiale radioattivo che dovrebbe essere utilizzato per esperimenti all'interno del laboratorio. Già questa cosa ci ha posto seriamente in allarme e in forte imbarazzo. Primo perché nessuno aveva conoscenza reale di quello che sarebbe accaduto oggi, di quello che accadeva nella giornata di ieri e questo già è un primo problema. C'è un protocollo che è stato realizzato e quindi tutti gli enti dovrebbero essere informati e dovrebbero informare perfettamente i cittadini per non creare situazioni anche di panico, di incertezze e di poca informazione. L'altra domanda che ci poniamo è che noi ci siamo lasciati nella città di Teramo con i confronti vari con gli enti che si sono occupati del problema dell'acqua con una serie di azioni e di impegni. Innanzitutto il laboratorio dovrebbe fare simulazioni per portare fuori dal laboratorio sostanze pericolose e non per portarne altre all'interno. Ci poniamo il problema del fatto che all'interno delle gallerie scappiamo benissimo dalla relazione finale del commissario Balducci che non sono state impermeabilizzate. Quindi se è proibito il passaggio di determinati camion che portano sostanze pericolose non capiamo come sia possibile fargli fare una simulazione con sostanze pericolose all'interno. Tutto questo insomma crea confusione, ancora una volta le informazioni arrivano in maniera centellinata al cittadino e ancora una volta non abbiamo le idee chiare di quello che accade all'interno dei laboratori. Credo che 700.000 cittadini che bevono l'acqua ogni giorno, che hanno bisogno dell'acqua per ogni attività abbiano necessità di sapere perfettamente e dobbiamo avere un programma chiaro che ci porti alla messa in sicurezza del nostro acquifero. In questa vicenda la cosa che colpisce maggiormente è la mancanza di comunicazione del trasporto speciale da parte dei laboratori del Gran Sasso alla Regione, alle ASL e agli acquedotti che gestiscono le reti idriche di Teramo e l'Aquila. La domanda è ma come è possibile condurre una corretta simulazione senza condividerla con gli altri enti interessati alla sicurezza?